Ciao a tutti, intanto devo dire che forse è meglio vedersi prima di tutto un po' di panorama Magnifico, veramente bello Allora voglio fare questo video perché molti stanno chiedendosi come mai tutto questo marasma, queste comunicazioni in questi ultimi giorni che cosa sta succedendo, hanno visto magari qualche post, qualche video di qualche amico o direttamente il mio C'è un'iniziativa molto importante in questo momento che sta suscitando davvero l'interesse di tutti non solo degli esperti nel settore del marketing, del network, di tutto quello che riguarda la comunicazione ma anche delle persone che per la prima volta ascoltano perché c'è un interesse incredibile praticamente che sta succedendo, un'azienda in Polonia ha fatto dei risultati pazzeschi e questo ha suscitato un interesse ovviamente di chi capisce un po' di numeri e esperienza molto forte è stato approfondito e ci sono delle caratteristiche che veramente si stanno mettendo insieme delle combinazioni che fanno pensare che ci sia davvero da fare delle cose grandissime e i risultati stanno parlando chiaro, cioè da Cuneo alla Sicilia in pochissimi giorni c'è un interesse totale e tante persone che hanno già fatto questo primo passo di voler dire io ci sono, cosa devo fare? Purtroppo non si può fare nulla prima del primo luglio e io sto personalmente girando un po' di posti in Italia per andare a spiegare che cosa sta per partire in questo momento c'è un tantissimo interesse e non si può fare altro che posizionarsi nella organizzazione basta, si può solo dire ok voglio pre-registrarmi non è un impegno, è solo un posizionamento poi quando ognuno dovrà registrarsi dal primo luglio via via gli verrà comunicato, gli verrà dato un link si registrerà e farà la procedura per poter diventare o cliente o distributore perché di che cosa? stiamo parlando di prodotti spettacolari prodotti di altissima qualità a base di collagene un collagene molto particolare ovviamente gli esperti lo hanno già trattato lo hanno sperimentato addirittura su se stessi e hanno ovviamente confermato la grandezza di questa la potenza di questo prodotto che tra l'altro ha un prezzo fantastico perché costa praticamente la metà di quello che c'è in giro dei migliori prodotti che c'è in giro pertanto addirittura registrandosi da cliente persino abbiamo un 10% di sconto registrandosi come distributori abbiamo il 30% di sconto quindi la cosa diventa veramente interessante perché? perché attraverso poi il sistema del passaparola molto semplice che molti conoscono benissimo quando ci sono le caratteristiche prezzo interessante prodotto fantastico e magari un piano guadagni altrettanto fortissimo succede che si incendia il momento diventa straordinario e in mezzo a tutto questo c'è che con i volumi che vengono fuori da questo passaparola che avete avviato voi così semplicemente parlando di questo prodotto con un qualche amico come sta accadendo è un interesse totale e nei volumi di squadra vengono conteggiati e se nel mese avete fatto un volume che è veramente alla portata di tutti anche principianti veramente di tutti si può arrotondare benissimo con delle buonissime entrate e guidare un'automobile dovrebbe essere l'utilitaria la prima la citycar dovrebbe essere una Yaris con l'adesivino dell'azienda sotto lo specchietto e dove praticamente viene data anche se non abbiamo nessun requisito per poter avere un'automobile nel senso nessuna busta paga nessun finanziamento da poter avere tutte quelle cose perché è praticamente un'auto aziendale ok ovviamente tutti i dettagli ci saranno anno via via ci saranno anche presentazioni ufficiali nessuno si può registrare prima del primo luglio inizierà tutto lì ad oggi abbiamo mediamente voglio azzardare un numero ma credetemi sto basso ma in tutta Italia ci saranno almeno 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 sì sono cifre molto importanti non mi fate dire i numeri perché sono veramente alti ok poi è meglio non creare aspettative questo è stato fatto proprio nemmeno 20 giorni e le opportunità sono enormi perché praticamente stiamo parlando di un business che va a toccare tutti in Polonia in due anni senza le automobili quelle piccole ma solo quelle grandi quindi fatturati per persone che comunque dovevano lavorare almeno 3, 4, 5 mesi per arrivarci hanno fatto 120.000 persone in due anni e mezzo 20 milioni di fatturato da zero una cosa spaziale ecco immaginatevi qua è stato introdotto anche delle cose molto più forti e ovviamente stiamo partendo con la loro esperienza che parte immediatamente qua e poi va a toccare tutta Europa e anche oltre quindi ovviamente chi entra adesso è ovviamente molto 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 avvantaggiato quindi se volete contattate direttamente me se state vedendo dal mio video oppure contattate ovviamente io non dico il nome perché altrimenti le persone che vogliono condividere con altre non vorrei assolutamente che non voglio diciamo che contattino direttamente me perché non sarebbe giusto altrimenti roviamo il lavoro agli altri ma comunque insomma chi mi conosce mi può contattare e invece le persone che hanno visto questo video e gliel'hanno mandato possono contattare direttamente la persona perché semplicemente la cosa più difficile da fare è proprio appunto usare gli strumenti tecnologici ecco un inoltre lo facciamo tutti i giorni sarà così facile far arrivare ovunque un prodotto così ovvio interessante non è uno ma sono oltre 100 tutta la gamma dei prodotti sono a base di collagene un collagene attivo potentissimo poi scoprirete di cosa parliamo nei dettagli saluto a presto e in bocca al lupo a tutti grazie a tutti grazie a tutti